Si riaccendono i riflettori sul tema sicurezza in via Euganea. Nella via dove abita la Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, e per questo ora costantemente vigilata, è andata a segno un'aggressione ai danni di un ex antiquario e subito la gente che vive nella via o le persone di passaggio si interrogano sul livello di sicurezza. Specialmente di sera, se uno arriva alla stazione alle 10, così di sera, fare il viale della stazione da soli non è proprio così sereno. Sulle rapine forse un po' più di controlli per la strada, probabilmente sarebbero utili, però... Già di giorno si ha un po' paura, diciamo, soprattutto se si gira da soli, non accompagnati. In passato proprio in quest'area ad essere rapinata era stata anche Vanda Pellizzari, volto noto della politica padovana. Una rapina è rimasta senza un responsabile. Anche questa volta le forze dell'ordine hanno raccolto gli elementi necessari nella speranza di riuscire a risalire agli autori del blitz.